Anche questa volta San Gennaro ha fatto il miracolo. Questa mattina alle 9.27 si è ripetuto il prodigio nel Duomo di Napoli, strapieno di fedeli. Per gli ultimi due anni l'accesso è stato fortemente limitato nell'affluenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. L'arcivescovo Mimo Battaglia, roteando l'ampolla, ha dato l'annuncio ai fedeli, il segno del sangue, ancora una volta. San Gennaro nel giorno della sua festa ha lasciato dunque tutti a bocca aperta all'apertura della cassaforte che si trova nella cappella del tesoro. Il sangue era già sciolto. L'annuncio della liquefazione del sangue del santo patrono è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di uno dei membri della deputazione di San Gennaro e dal lungo applauso dei fedeli. Il ripetersi del miracolo è per i fedeli anche un segno di buon auspicio per Napoli e la campagna. Il miracolo, lo ricordiamo, avviene tre volte l'anno, il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre in ricordo dell'eruzione vesuviana del 1631.